È un lavoro straordinario, uno strumento originale come la DIA, spiccatamente interforse e quindi che non può che vedere grande attenzione da parte della difesa che è appunto una realtà spiccatamente interforse. E poi il confronto di oggi è stato importante, abbiamo messo insieme le esperienze, il lavoro sul fronte del contrasto alla criminalità, sul fronte investigativo, sul lavoro straordinario delle nostre forze di polizia, della magistratura ma nel contempo anche promuovere il sviluppo, promuovere crescita, entrare con coraggio nelle contraddizioni sociali del Paese, lavorare per affrontarle e per risolvere. Quindi credo che sia stato un buon modo, molto concreto, molto franco per celebrare questi 30 anni, non appunto in una celebrazione retorica, ma in un confronto su ciò che è stato e in un confronto soprattutto su ciò che si deve fare.